Si è parlato anche di novità terapeutiche nel trattamento delle vasculiti anche associate e dell'arterite delle cellule giganti al 59esimo congresso nazionale della SIR. Abbiamo approfondito l'argomento con il professor Carlo Salvarani, autore di uno degli studi condotti nell'arterite delle cellule giganti già presentato al congresso annuale dell'American College of Rematology. Allora professor Salvarani, cominciamo a parlare delle novità terapeutiche nelle vasculiti anche associate, quindi le vasculiti dei piccoli vasi. Che novità sono emerse nel corso del congresso? Emersa una novità importante, cioè nel senso che uno dei problemi delle terapie vasculiti anche associate è, ricordo che la terapia di induzione della remissione si fa associando a un immunodepressore come la ciclofosfamide o un farmaco biologico come il rituximab, la terapia steroidea. Questo però induce nel primo anno di terapia un'alta percentuale di infezioni severe e pericolose della vita, circa un quinto dei pazienti va incontro a infezioni severe. E questo è dovuto all'associazione steroide più immunodepressore o rituxima. Ora è stato visto che un farmaco che si chiama VACOPAN, che è un inibitore del recettore C5A, della componente C5A del complemente, un inibitore del recettore, è altrettanto e può sostituire l'osteroide con meno effetti collaterali, con meno infezioni e inoltre sembra essere l'associazione ciclofosfamide e rituxima più a VACOPAN, sembra essere più efficace, soprattutto sul danno renale, determina un miglioramento della funzione renale superiore nel lungo termine all'associazione rituxima ciclofosfamide e steroide. Quindi sostituire steroide con avacopan riduce le infezioni severe, che sono un grande problema in questi pazienti, perché infezioni severe sono associate alla mortalità, ma in grado anche di avere, probabilmente deve essere meglio dimostrata, però ci sono dati molto supportivi che migliorerebbe anche la funzionalità renale. Ecco, e questo farmaco può già essere utilizzato nel trattamento? Sì, questo farmaco può già essere utilizzato, utilizzato però una malattia rara, quindi c'è la possibilità, rientra nell'utilizzo, nella regolamentazione dei farmaci delle malattie rare. Ecco, invece parliamo della seconda comunicazione che fra l'altro avete presentato anche alla CR e che è relativa all'impiego del tocilizumab nell'arterite delle cellule giganti. Ci racconta questo studio brevemente? Questo, anche questo, è un problema importante. La terapia principale dell'arterite cellule giganti e lo steroide sono pazienti anziani che sono gravati da un gravo rischio di tossicità d'asteroide. Circa l'80% di questi pazienti ha effetti collaterali dovuti alla tossicità steroidea, che ricordo che è dose cumulativa dipendente, cioè maggiore il dosaggio dell'osteroide, maggiore è la probabilità di andare incontro a tossicità. Quindi noi abbiamo disperato bisogno di farmaci che siano in grado di risparmiare l'osteroide o di sostituirla. Ora è stato visto che un farmaco, tocilizumab, già dimostrato essere in grado di risparmiare l'osteroide, è in grado anche di sostituirlo. Ci sono dei dati preliminari, questo è anche i dati di uno studio fatto a Reggio Emilia, presentato all'American College of Traumatology del 2022 di quest'anno, che se noi trattiamo questi pazienti con solo tocilizumab senza steroide, questi pazienti sono in grado di rispondere alla sola terapia con tocilizumab, evitando quindi la terapia steroidea e gli effetti collaterali correlati allo steroide. I dati sono incoraggianti, che prospettive ci sono per un impiego di questo farmaco? I dati sono molto, secondo me, incoraggianti molto buoni perché il nostro studio conferma un altro studio di un gruppo svizzero, adesso è importante fare un trial randomizzato controllato che confermi questi due studi pilota.